Una mini piantagione di canapa indiana, quella scoperta dai carabinieri in un campo di Fontana Rosa. Sono stati i militari della liquota radiomobile a intercettare un 63enne della zona. L'uomo aveva già mietuto e messo in essiccazione, in un capanno a sua disposizione, tre piante di canapa, del peso complessivo di oltre mezzo chilo. Nel corso della prequisizione, il 63enne, già noto alle forze dell'ordine, e nuovamente deferito alla Procura della Repubblica, è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente, pronta all'uso. Stessa sorte, toccata a un 63enne di Grotta Minarda, che proprio a Fontana Rosa, durante uno dei numerosi posti di blocco eseguiti lungo le principali arterie stradali, è stato sospreso al volante con un tasso alcolemico al di sopra della soglia massima consentita dalla legge. Per l'autista è scattato anche l'immediato ritiro della patente di guida. Nell'ambito dei controlli a tappeto assicurati nella valle dell'Ufita, da cinque equipaggi schierati dalla compagnia di Mirabella e Clano, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal prefetto Rossana Riflesso, sono stati individuati e cosette la fuga alcuni soggetti con il volto travissato che si aggiravano tra gli stabilimenti produttivi dell'area industriale situata tra i comuni di Sturno e Frigento. L'intervento di tre pattuglie dei Carabinieri della stazione di Frigento, Fontana Rosa e Sant'Angelo Lalesca, non solo ha fatto saltare il piano criminale, ma ha consentito anche di rinvenire un'auto lasciata in sosta all'interno di un terreno agricolo. Un'auto pronta ad allontanarsi con la banda di ladri a bordo. Il veicolo al cui interno sono stati rinvenuti vari attrezziati allo scasso è stato posto sotto sequestro penale. Sull'auto saranno eseguiti i necessari accertamenti tecnici per risalire all'identità degli autori del raid.